Fere, dimmi! Devo dirti una cosa! Cosa? The Flourish Lava! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, anch'io qui sopra! No, Fere! Devo salti! Solo uno dei due ci può stare! No, vattene, vattene! Ti spacco la faccia! Tu morirai! Ho vinto! Tu hai perso, sei morto nella lava! E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki! E io sono Stefano e questo G come è GTA V! E oggi siamo qui con un video un po' particolare Perché giocheremo su GTA V a The Floor is Lava Ovvero il classico gioco in cui si fa finta che tutto il pavimento diventi lava Esattamente! Allora, credo che lo conoscete tutti in questo periodo Sta andando super di moda negli Stati Uniti Io l'adoro come gioco, lo vorrei fare in giro Si giocava da bambini, dai, lo conosciamo tutti Però Fere non piace, Fere non si diverte con queste cose Quindi ho deciso di farlo su GTA Perché devi dire queste musiche? Perché quando siamo in giro, se te lo faccio, devi fare Oh Stefano, non puoi ridere E non sali da nessuna parte Ma io? Però dove? Si dovrebbe fare in giro per la città, Fere Te lo dico, tu ti lanci sopra una macchina Ti do un punto e mi metto sopra di te, mi sembra giusto Quindi oggi lo proviamo su GTA Lo faremo in due versioni Prima a piedi Dopodiché una versione molto modificata E molto estrema con la moto volante Che vedrete dopo Per ora ce ne andiamo tranquilli in giro per la città Ogni tanto uno dei due dice The Florislava E abbiamo cinque secondi entrambi Per andare sopra qualcosa Ok Fere? Mi sembra giusto, mi sembra giusto un bel gioco A me piace molto questa zona Perché è la zona dove si passeggia Si fa shopping e si dice The Florislava No, vattene, vattene, vattene Questo è mio, questo è mio Uno No, sono caduto Aiuto 5, 4, 3 Ciao Fere Non mi puoi copiare Non mi puoi copiare No Fere Fere non ci provare Parliamone Non mi puoi copiare Allora Visto che ti piace la lava Visto che ti piace la lava Ho in mente una bella vendetta Fere No Fere Sei molto gentile ma rifiuta Ciao Fere Quanto tempo The Florislava No, no Non lo puoi dire così Non lo puoi dire così Ok Io sono sicuro Dove sei Fere? Dietro di te Ma deve Però non penso che dei cespugli valgano molto Cioè quella lava tecnicamente sono Vale tutto Vale tutto quello che non è il terreno normale Ma è quella macchina di chi è? Non lo so, è mia Bella, bella, bella No Fere Adesso è mia Ma smettila Non puoi stare sopra una macchina con The Florislava Quello che avete visto era soltanto un riscaldamento Adesso si fanno le cose sul serio Allora Abbiamo la nostra bellissima moto Che ormai l'amiamo e l'adoriamo tantissimo Abbiamo tutta la città che è fatta di lava Cosa possiamo fare? Noi dobbiamo volare diciamo all'infinito E l'unica cosa che possiamo toccare sono i tetti o comunque le superfici che non sono il pavimento della città Quindi dobbiamo cercare di andare in giro per tutta la città volando E di toccare diciamo delle superfici che non sono terra per ricaricare il tubo Quindi tutte quelle alte E continuare a volare Quindi sei pronto? Io ho deciso di mettere anche un cronometro per vedere quanto duri Visto che non c'è solo l'acqua di 5 secondi Allora La prima sfida è durare 2 minuti Vediamo se ci riesco Ok Ok Sei pronto Stef? The Florislava Vai 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 Andiamo Ok Ok Primo turbo Ok però la stai andando L'obiettivo è toccare subito un tetto Tipo Un tetto No ho avuto paura Senza schiantarti Senza schiantarti Ovviamente non posso schiantarmi Allora Ok Devo trovarne uno abbastanza morbido Tipo Questo Però sembrava morbido 20 secondi 20? 20 secondi Beh non è male 20 secondi Secondo me non è male 20 secondi Poteva andare peggio dai Allora devo scegliere il primo tetto dove toccare Quella è la cosa più difficile di tutte È più importante Questo è perfetto Questo è perfetto L'ho mancato Ok sono più morto che vivo al momento Qua 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 Ok Ci siamo Siamo in ballo Siamo in ballo Siamo in ballo Andiamo Finalmente Steph ce la fa Uff Allora qua si fa difficile Perché ci sono tutti i palazzi decisamente più alti Ok Teoricamente qua ce la dovrei fare Sì 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 ce la fai Però devo essere Piano Bravo Eh Quello che ti stavo per dire Perché ci sono tutti questi gralini Quindi devi riuscire a fare Tata Quanto ho son durato a fare È più difficile questo Ahà Del farlo a piedi Secondo me Assolutamente 39 secondi 39 secondi 39 secondi Ok Ok Devo arrivare a due minuti Quindi non è male Secondo me Non è male Diciamo Quasi raddoppiato Eh Dimi poco Dimi poco Non è che sta andando così tanto bene Non è che Bolt prende il raddoppiamento del mondo Così da un giorno all'altro Fede No sei una persona radicola Allora Dai andiamo Fede Sono pronto Sei pronto Sì The floor is lava Via Ok Via 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 Andiamo Perfetto 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 Questa è un'ottima partenza Fede Allora Adocchiamo un bel tetto Occhio alle piscine Lo so Non valgono come cosa per rinfrescarsi dalla lava Oh Non l'ho toccato No ma li devi schivare quando sono così stretti Non ce la fai Ti schiamo Eh sono morto Oh invece no Oh mamma mia Steph incredibile Turbo Vai 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 Vola 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 Ok Oh mamma mia Ok qua secondo me c'è qualche tetto abbastanza buono Dai che ce la facciamo Dai Ok Turbo prima di toccare Non ci credo Non ci credo Che ho fatto una cosa del genere Ok Ok Planiamo Planiamo Sto panicando Cioè è andato tutto storto nella partita che sta andando meglio Mi viene un'ansia assurda solo a guardarti L'ho toccato Sì No non me l'ho dato Non me l'ha contato Ok Ok E io parcheggio Ok ok Vabbè si ti puoi fermare No Non abbiamo detto niente Però metti in pausa il tempo Ok Ok quanto siamo 57 secondi Ok Quasi un minuto 3 secondi e un minuto Ok Allora Questa è la partita della vita Manca un altro minuto E ce l'abbiamo fatta Ti dico io Cioè appena rivolgo la rivi Pronta Ok vai Ok vado Ok vai Perfetto Riavviato Perfetto 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 Sì perché poi in effetti Nella regola Non è che abbiamo detto Che non ci si può fermare Esatto Cioè non devi giusto Ti puoi riposare ogni tanto Aspetta Questo Ok me l'ha dato Me l'ha dato Vola 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 Ma dai Mi si era già riaccumulato Il turbo Bastava soltanto Che mi facesse girare la moto Un minuto e venti Ah peccato Che tristezza Peccato Però è divertentissimo È bello È bello Secondo me almeno i due minuti Li posso tranquillamente fare Sono prontissimo Per un altro round Ok Parti Andiamo Parti Parti Prendo prima velocità Ok Allora Tre Due Uno Andiamo Turbo Ok Vorrei già toccare qua Se ci No non me la sento Non me la sento Non me la sento Eh ma non ero piano Capisci Ok questo è il posto Perfetto Questo è bello Guarda c'ho pure una rampa Ho pure una rampa Bellissima questa Ok Andiamo di turbo Oddio Oddio Oh mamma mia Questo marrone è fatibile No Ok però andiamo nella zona bassa Andiamo nella zona bassa Devo planare bene Devo andare a rassurare E poi rialzarmi un po' Aiuto Aiuto Ok Oh mio dio Sono tutti brutti qua Oh mamma mia No 46 secondi 46 secondi Però Apprezza La mia Audacia Nel schiantarmi Su un cancello Quello si Quella parte più divertente Del video Sicuramente Serti schiantare Ne feggio modi Almeno ci ho provato Questa zona non è male Perché è tutto basso Però che sfiga Che ho trovato Tutti i tetti stranissimi Eh sono bassi Ma sono tutti Con queste cose strane Capito Non sono piani Che quindi ti permettono Di fare Però io ci voglio riprovare Ferre Non mi arrendo Non so che dirti Niente Voglio ancora riprovarci Vado Vai Ok Andiamo Ok Allora Guarda No sembrava buono Invece no Oh mamma mia Perché non puoi porti alti Vedi qua Qua sono tutti bassissimi Però Aumenta la difficoltà Perché sono molto piccoli Molto stretti Aiuto Aspetta Ok Ok Ci siamo Nella zona industriale Piena di cavi Lo stavo per dire Lo stavo per dire Ciao Ferre Sei tornata? Sì Ti ho fatto venire voglia Di tornare a giocare Da quanto ero bravo Con la moto Eh sì Guarda Sono venuta qua Perché altrimenti Se ti lasciavo A girongelare Con quella moto Sarebbe stato Un disastro continuo Allora Meglio che torni Ti vorrei dare un consiglio Ferre Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora perché Te voglio dire a bassa voce De Florislava Cosa c'entrava Darmi un calcio? Perché così Parti da Sesa Cosa c'entrava Darmi un calcio? Cosa c'entrava? Non vale Non si danno i calci In questa competizione? Non si danno Tutto vale in questa competizione Non si danno No Ferre Non si danno L'è schivata Lo so Facciamoci una passeggiata Per questa zona della città E vediamo un pochettino Come va Ad esempio De Florislava Stai zitto Va te ne corri E mettiti sopra Qualche posto 4 3 2 Scusi signora No perché non posso andare qui sopra Ok ce l'ho fatta Ciao Ferre No non si può Ferre aiutami Sono Cosa ti faccio? Ero sopra la macchina Lo sai che giocano Anche i cittadini normali Sì Vediamo Guarda eh Aspetta ti faccio vedere Stai un attimo fermo eh Ok Perché Diciamo che loro Li devi incentivare un po' Ok Ok quindi Devi mettere la lava realmente Esatto esatto Così capiscono Guarda che bravi Guarda lì Guarda che bravi Guarda lì Stanno cercando un posto dove andare Però sono un po' scarsi Vedi non hanno visto Non capiscono bene il gioco Esatto Però anche loro ci giocano spesso Sono proprio bravi Allora Ferre ti sfido Ok Ok Entriamo in questo vicolo Lo diciamo E chi trova il nascondiglio Si salva Ok Ok 3 2 1 Deflorislava Ma non c'è nulla Aspetta questo 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 Non si può salire Non si può salire Ferre guardami Dove sei Io tanto sono morta Vengo a vedere dove sei tu Dove sei Che è come Non riesco neanche a prendere Ecco qua Te lo meriti Te lo meriti Era geniale Ferre Era bellissimo Ciao Stef Ciao Ferre E' andata bene entrambi stavolta Dai Ok Continuiamo ad andare in giro Così signore La conosce la nuova moda Che sta andando in tutto il mondo Tutti si libertano a giocarla Praticamente bisogna far finta Che per terra ci sia la lava Ok Provi a giocare anche lei No signore L'ha presa troppo seriamente Deve scappare Deve riparare Sì ma poi doveva immaginarla la lava Eh vabbè Ferre Ma tu gliel'hai messa Cioè è colpa tua Gli hai reso troppo realistica Hai ragione Però diciamo È normale che si spaventi Che aveva scarsa immaginazione Quindi gli ho dato un incentivo Ma non ha funzionato bene Uh Nella stazione dei pompieri De Florislava No No dove posso salire Va Non lo so Sì qua 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 Veloce 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 3 2 1 Non si può salire Dove sono Ma dove sei andato Non è giusto Ma ti sembra che hai trovato L'unico posto in cui Si potrà salire Te lo vergogna Bene che siete riusciti Sì cia cia Sieteci un like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E la prossima Ciao Ciao